Come stanno le cose in Italia, un minore o un minorenne che viva un periodo di malessere o dei gravi disagi psicologici ha oggi la possibilità in Italia, in maniera relativamente semplice, di trovare un sostegno da parte di un professionista? La dottoressa ha affermato una cosa molto molto importante che mi auguro a breve nell'evoluzione della presa di coscienza del grave disagio psicologico e della messa in atto di politiche e di attività che creino la possibilità di agganciare prima che accadano queste cose ai giovani. C'è una cosa bellissima, importante che ha detto la dottoressa, perché oggi un ragazzo minorenne non può rivolgersi da solo ad uno psicologo, a uno psicoterapeuta, se non accompagnato dai genitori e ovviamente con il consenso. Però come diceva giustamente la dottoressa, è proprio in famiglia che c'è lo scollamento, è proprio il giovane che non si fida più dei genitori. Ed è allora in questa situazione, in questa presa di coscienza, si dovrebbe e si dovrà abbassare per quanto riguarda la prima consulenza psicologica, la possibilità del minore di recarsi dallo psicologo di base, dallo psicologo di famiglia che sempre più verrà, per manifestare il suo malessere, per potersi recare a fare questo primo colloquio senza dirlo precedentemente ai genitori, senza dover per forza in un primo tempo parlarne, perché magari non ha voglia di condividere. Sarà poi ovvio che il professionista, trovandosi di fronte a un minore, avrà poi l'obbligo per legge di informare la famiglia. Ma già che il ragazzo si senta libero di poter dire ho bisogno di aiuto, inizialmente non lo voglio, è un modo per dargli importanza per agganciarlo. E non si devono sentire esclusi i genitori, perché proprio con i genitori che c'è lo scollamento in famiglia, poi naturalmente verranno richiamati e allora lì si potrà fare un percorso condiviso.